un programma radio questo è il mio cioè sto facendo un microfono con una cosa usb allora si infatti allora devi raccontare la verità su Frappa Exposi in Frappa cioè questo episodio mi tra di un coso così tipo un banner davanti Exposi in Frappa in realtà è uno che è entrato in casa mia che io non ho mai conosciuto nella mia vita mi ha detto di chiamarlo Frappa e di fare finta di conoscerlo e mi ha detto di fargli fare i video con me no non dire queste cose scusa non mi uccide ciao a tutti è venuto in questo nuovo episodio di Ib con la Frappa salve salve ok dobbiamo finire di analizzare la stanza cioè perché non perché non la colpisce soprattutto cioè Gaia non parla 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 allora aveva detto che dobbiamo finire di analizzare la stanza però non l'analizza cioè non fa niente alla porta analizziamo Nichini tutte sono senza testi senza testi vai promo annaccia non posso dire passi commento abbiamo già tenuto su facciamo in fretta lo so e lei è fatta la porta analizzando questa scatola qua in basso pare aperto che bullismo lo c'è inizia da non vedo niente di utile che mi dice torna da credo vedi che sono un genio io no 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 mi ha spaventato e ora il manichino blocca la strada su prova tu blocca la strada per andare da Gary non per gli seguimenti come sai non lo so andiamo da Gary per ora come se c'è quello che blocca ah l'uscita quella quella quando si è mossa non era contro il muro ecco qua hanno un raggio di visione proprio di un secondo spossa la Ibb vabbè brah eh vai là analizzando spruta spingi sta partendo niente non si muove cosa facciamo Ibb non possiamo uscire poverina non possiamo fare nient'altro a parte andare tutti qua che c'è il mio c'è il primo tutto o cosa perchè si muove con la palla ciao palla se la caduta palla se la caduta se la caduta se la caduta se la caduta è l'uomo che è l'uomo qualcosa si spece per il culo ma era forse un pomodoro se la caduta continuiamo ok brutto bruttissimo clown no per favore non mi faccia spuntare i clown mi ho paura di ah volevi voglio che tu ti diventa Ibb no 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 se voglio che ti diventa Ibb vieni in un mondo divertente senza adulti se pedofili saremo insieme pedofili no veramente io e tu e i nostri amici pedofili è vero si è entrato di quando no ehm siamo dissacrando un po' si beh stiamo sprecando file cos'è sta roba analizzare bassa ci sa cosa sta facendo ci sa cosa sta facendo che eri l'abbiamo lasciato indietro c'è solo una cosa che gli uomini fanno da soli e non dite che ho pregiudizi perché non non ci metto tempo chissà se c'è chissà se è successo qualcosa Ibb Mary mi sentite non va bene ah lo sapevo che non avrei dovuto lasciarle andare da sole che fare credo che investicherò ancora quella stanza nonostante oggi l'idea di tornare lì dentro cosa c'era lì dentro coniglietti no quindi mo comandiamo con Carrie c'è 10 petali o wow profondo che era una rossa con un po' di petali ma non c'erano i coniglietti non mi sembrava coniglietti va bene rovina del cuore sento vabbè che si abbia già fatto acci rossi non importa quanto la guardi non è affatto carino mi sembra leggero più diverso però quindi lui vedeva le bambule assassini qua ma io ho il bambule coniglietti questo figlio questo figlio è per quello che dicevano tutti qui che inizia a inserisciare quindi secondo me forse lui è stato secondo me la doppio è stato più tempo nella galleria secondo me per questo che inizia da allucinare appunto non c'è non c'è l'uscita non c'è un motivo ok prima di tirare un qualsiasi di quelle guardia salvo dissi profondo ma fai du sumo donna si adesso c'è ogni volta che prende mano ai comandi tanto c'è qualcosa non so prendi mano ai comandi le ritirano di quelle corde no ma che oh figo è per cambiare corsi come un colore di corpi sporti infatti quello è blu cioè tipo di blu allora no alla per forza per lui entra qua secondo me con l'alimentario guarda un triangolo quindi dobbiamo fare un modo per si metterla e lei e lei entra l'iette di comunità un coso vede l'interdicare come si faceva l'olio da volso si è formato con quando si è entrato nella carriaccia di lontano ogni due di rispetto si sta spiegando a rosa blu una bella rosa blu si si effettiva ma allora la decima erano di quelle corde corte bloccata sta cosa non mi ispira però che 10 pedigli ma che le serviranno non tutte le hanno fatto a posto quali diresti io direi la settimana no non so pure se non le corde magari prova con la prima c'è non credo no si trova bene tanto bene ci sono telsus non lo presenti ah giusto perchè la quarta è vero quindi un mondo sono stato quali bloccato la porta si vabbè perchè mi è sesto di se mi sei sicura fisicamente di voi cazzo di quale faccio mi sei sicuro credo di sì cosa te lo fa pensare è la cosa più bella che io abbia mai sentito negli ultimi giorni qualcosa si muove al suo interno non 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 aprite quella porta no no dai ho sbagliato se lo spingo del buco no 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 chi che è interessante che hai detto secondo me ma torniamo da Geri Geri che bessemmia oh ok ora infiammo nel frango che abbiamo visto prima e' bella divertente se tu puoi possa stare in segno i miei 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 ok poi non sappiamo che fare con me dobbiamo continuare c'è una porta però torno dietro per perchè si muove ehi ehi posso farti una domanda no che rie tuo padre ehm no quindi tuo padre è qualcun altro già capisco tua madre è gentile ehiib non quando sei robito ahahah si arrabbiato teib vuoi rivedere i tuoi ahahah vuoi rivedere i tuoi genitori presto vero? anch'io voglio uscire presto beh cerchiamo di uscire insieme ok? te lo prometto che carino è tuttuloce no oggi no non c'è una mi sta simpatica per niente stanza grande salvataggio e c'è un motivo se non lo so perché salve quelli nuovi perché sono quelli vecchi si lo so tranquillino nel senso vabbè la mezza tutto il per un'altra perché lì ci sono troppo forte bambola è quello di vera una bambola disturbante ciao che non mi piace essere portami con te bello la bambola provare a analizzarla secondo me è ehm inquietante spagnolo provare a analizzarla sì una bambola disturbante ehi perché non mi stai portando da farelo? prendila cazzo porca tra io pucca no non mi stai portando prendila cazzo sei stupido no ok porca tra io pucca no non la posso prendere perchè mi stai ignorando mi odi è diventata meri imbrusamente la bambola non era così meri ehi gioca con me conosco un sacco di cose divertenti da fare poffi dai miei vuoi signori nel repartorio posso sempre fare quella dell'amante giapponese una bambola ho anche un sacco di amici te le presenterò tipo ara sei qui per sempre ma anche no ma anche no no per quanto ancora mi seguirai adesso basta sono occupato e non diventerò il tuo amichetto perchè calcio no calcio mi vuole troppo spostola sarebbe meglio non farsi coinvolgere qui perchè se è bloccato mhm prendimi vuole essere sdallinato dammi una p dammi una r non so perchè lo fanno a salvez c'è anche modo per tornare da man si sono si link il mondo non è un mondo becoci tu che io sto facendo cose qua soggiori 10 minuti abbeo considerando quanto è fatto con paolo come è fatto molto di più pescatore non c'è nessuno a cui... ah no, aspetta non c'è nessuno a cui... ragazzi, so confronto, comunque d'altra volta non c'è nessuno qui ed è un pescatore con un quadro animato, so che significa che un pescatore sta vagando per gli inquiritori di questa galleria e infatti io direi di salvare qui... l'abbiamo già salvato, anzi non salvare direttamente il video che mancao due nuovi, facciamo un'altra stanza no perchè succede qualcosa con me secondo me... e vabbè facciamo succedere qualcosa perchè in questo bisogno non ho fatto niente volta come se per me donna con direzione il quadro del titolo donna senza il sombretto no, da quella direzione sarebbe stato più figlio sta all'ombrello c'è una chiavella c'è qualcosa sul tavolo, tuttavia la chiave ad albero possiamo facciare qualcosa con questo testo di manichino cosa sta guardando? no, bisogna farlo vedere tutto toglierla se si rompe ed è così pesante toglierla ho detto ok, se sei così sicura non ti fermerò ottima idea Andrea no, non so se si niente ma adesso di manchi che roba ciò parlo anche quegli altri ciò di manchi perchè non ho i capelli magari è andata così ahahahah vabbè basta l'ultimo lo dobbiamo infatti fatti pezzi ho fatto male vabbè almeno un premio teatro che abbia salvato tutto tutto perchè questo ha già fatto male vabbè vabbè ci sono tanti testi non le rompiamo non salvare ok continuiamo direttamente col pro no che hai fatto? hai salvato? no ok continuiamo direttamente col prossimo episodio che è già tardissimo fermo non toccare niente no 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 ecco detto questo speriamo che questo video vi sia piaciuto ciao a tutti saluta ciao e ci vediamo al prossimo video ciao ciao